Buongiorno a tutti, buongiorno e buon anno, buon 2014. Iniziamo il nuovo anno con i saluti, con gli auguri per tutte le famiglie, per tutte le persone, per le imprese, per i giovani, per gli anziani, per tutti. Ma iniziamo anche, come facciamo da qualche tempo, mettendoci degli obiettivi da raggiungere nell'anno 2014. Ne evidenzierei tre, sono obiettivi abbastanza importanti e impegnativi, ma questo sarebbe il nostro desiderio, di arrivare al 7-8 gennaio 2015 dicendo abbiamo raggiunto o abbiamo iniziato a realizzare quegli obiettivi che un anno prima, cioè oggi, ci diamo. Quali sono questi obiettivi? Ne citerei tre. Il primo obiettivo è quello di iniziare la realizzazione della casa di riposo, la casa di riposo per anziani, ma più in generale di un sito dedicato ai servizi sociali e sanitari del Comune di Vionza, che è un grande comune e che ha, direi, tutte le carte di regola per avere un distretto sanitario ancora più grande, una zona per la medicina di gruppo e appunto anche la casa di riposo per gli anziani, con annesso una parte di quello che si chiama dopo di noi, cioè un locale o diversi locali destinati a persone che sono in difficoltà e che magari hanno perso i genitori e magari sono senza nessun tipo di assistenza se non quella della comunità. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di portare, in collaborazione col Comune di Padova e con enti sovracomunali, il trasporto urbano fino a Vionza centro, passando per Arolo, Busa e Peraga. Naturalmente anche questo è un obiettivo che ci sentiamo adesso di fissarci, perché nell'anno precedente, cioè nel 2013, ci sono stati diversi incontri, diverse posizioni dei gestori che ci fanno ben sperare per realizzare il trasporto urbano a Vionza entro, speriamo, settembre o comunque nell'anno 2014. Il terzo obiettivo che ci fissiamo per il 2014 è relativo al recupero adeguato del borgo di Quirino de Giorgio. Il centro di Vionza ospita, oltre al teatro comunale, anche le cinque case del borgo che prevedono dieci negozi al pian terreno. Ecco, riniziamo qui in gennaio i lavori dopo aver assecondato tutte le richieste della soprintendenza che ci ha fermato per diverso tempo, ha fermato il cantiere per più mesi e appunto in questo modo, riassecondando tutte quelle che sono le prescrizioni, contiamo entro l'anno di chiudere almeno nella parte riguardante i negozi il recupero del borgo. Questi tre obiettivi fondamentali, dopo abbiamo una serie di obiettivi frazione per frazione che magari elencherò velocissimamente, ma prima ancora è di questi giorni il monitoraggio della realizzazione delle piste ciclabili del comune di Vionza. È un misuratore, un indice della qualità della vita degli abitanti del comune di Vionza. Ebbene, noi abbiamo 64 chilometri di piste ciclabili, il 55% di questi chilometri sono già realizzati e quasi tutti in totale sicurezza. Contiamo in quest'anno di realizzarne un'altra parte di quelle che ci mancano per arrivare appunto a una quota ancora più significativa della percentuale della realizzazione. Quali sono? Intanto una pista ciclabile che ormai è ultimata, cioè quella di via Carpani. Poi la realizzazione della pista ciclabile e l'allargamento della strada di via Gregorio Barbarigo, l'inizio della realizzazione della pista ciclabile su via Venezia barra Capriccio e il collegamento che si prolunga da diverso tempo Vionza per Arolo. Altre cose fondamentali possono essere la buonissima notizia che nel Natale 2013 la comunità civile, l'amministrazione del comune di Vionza ha contribuito alla realizzazione della scuola materna di Pionca con 350 mila euro per il nuovo asilo di Pionca appunto e anche quest'anno contribuiremo con un'altra quota. Dopo le prescrizioni anche qui molto pesanti della soprintendenza siamo in grado di dire al privato di partire con la realizzazione della piazza di Codiverno. E da ultimo vorrei dirvi il fondo di solidarietà che ci ha dato tanta soddisfazione perché 16 mila euro sono stati raccolti attraverso il contributo spontaneo dei cittadini per il fondo di solidarietà, anche quest'anno il fondo di solidarietà darà un grande aiuto alle persone diverse che si trovano in difficoltà offrendo attraverso questo contributo delle proposte di lavoro temporaneo e che possono risolvere almeno parzialmente i problemi di tanti. Tantissime altre iniziative, tantissimi altri desideri che riguardano il lavoro, che riguardano la sanità, che riguardano la vicinanza e le famiglie, soprattutto la predisposizione di adeguati strumenti per chi cerca lavoro. Ci accompagnano tantissime idee, ci accompagnano e ci accompagneranno in quest'anno. Però insomma siamo proprio all'inizio, il nostro desiderio era quello di augurarvi tanta serenità, tanta salute, tanto lavoro, tanta voglia e gioia di stare insieme, augurandoci che gli obiettivi che ci siamo proposti adesso e i vostri obiettivi possano essere realizzati, almeno in parte. Vi saluto così e arrivederci a presto, magari fra un mesetto. Arrivederci ancora e buon anno.